Allora, intanto ciao a tutte e a tutti, grazie mille anche da parte mia per questa iniziativa, per questo invito. Mi dispiace molto non essere lì a Padova con voi. Non sono, come dire, abituato a partire da ricordi personali nel momento in cui faccio degli interventi pubblici, ma quest'oggi farò una piccola eccezione alla regola, diciamo, nella convinzione che questa parte di archivio personale che mi riguarda possa in qualche modo stabilire qualche risonanza anche con le esperienze di altri e altre di questi anni. Quindi anch'io volevo rievocare il momento, il periodo in cui ho conosciuto Tony, che è il periodo, stesso periodo in cui l'ha conosciuto Francesco. Avevamo poco più di vent'anni, ventidue se non ricordo male, perché ci siamo visti, incontrati per la prima volta a Roma nel 2000, nell'anno 2000. Va detto che non è stato proprio un incontro fortuito, nel senso che lo stavo cercando Tony, ero, come dire, sulle sue tracce, ecco, mettiamola così, girava voce a Roma che fosse arrivato Tony in questa città e che stava costruendo, mettendo su un collettivo di compagni che si stava occupando di fare l'inchiesta metropolitana, come si chiamava allora. Quell'inchiesta poi ha preso forma nel secondo numero della rivista Posse, cui poi abbiamo, insieme a Judith, insieme a molti altri, partecipato anche negli altri anni. Io volevo fondamentalmente fare questo, volevo fare l'inchiesta, ed è per questo che mi sono messo sulle tracce di Tony. Rievo questo momento perché mi piacerebbe spiegare, provare a spiegare cosa volesse dire per me, e per me come per molti altri, fare inchiesta in quel periodo. Un po' lo diceva Beppe prima, io faccio parte della generazione immediatamente successiva alla sua, ma insomma, io sono nato nel 1978. Noi abbiamo avuto per molti anni veramente l'impressione di aver perso l'appuntamento con la storia, con la storia con la S maiuscola, cioè di essere nati proprio appena dopo gli anni della rivoluzione, gli anni che contavano, del lungo 68 italiano. In certo senso provavamo una specie di disagio nell'avere nostalgia per un'epoca che non avevamo neanche vissuto. ho una sorta di senso di estraneamento anche rispetto a quello che ci succedeva, una specie di scarsa sensibilità con gli avvenimenti del mondo. Questo ha significato fondamentalmente per me fare inchiesta, e questo ha rappresentato il momento di incontro con Tony, cioè la possibilità di riaprire questa capacità di percepire quello che ci stava accadendo, tra cui per esempio, faccio solo un esempio, la precarietà lavorativa che riguardava tutti noi. Uno degli incontri che ricordo, una delle cose che ricordo più unidamente di questi primi incontri che facevamo a casa di Tony e Judith a Trastevere, è stata la piena indisponibilità di Tony di insegnarci alcunché. Una volta ricordo precisamente che gli chiesi se poteva per caso farci un seminario in cui ci avrebbe spiegato il metodo dell'inchiesta. Lui mi liquidò veramente sbrigativamente dicendo che aveva smesso di fare il professore e che soprattutto il metodo dell'inchiesta ognuno se lo inventa per conto proprio. Ovviamente non era vero, nel senso che proprio in quegli anni Tony stava ridefinendo il metodo operaista dell'inchiesta, lo stava facendo nelle nuove condizioni, lo dicevano prima altri interventi prima di me, nelle condizioni post-fordiste, nello spazio della metropoli e della precarietà diffusa. Beppe ricordava le importantissime ricerche degli anni 90 a Parigi, con Paolo Do abbiamo proprio in questi ultimi mesi l'ultimo lavoro che abbiamo fatto con Tony è proprio la raccolta di questi lavori di Tony degli anni 90 e degli anni 2000 attorno alla questione dell'inchiesta. Però in quel periodo, in quel momento, a Tony non interessava fare il professore, ma gli interessava molto di più formare un collettivo di ricerca e di intervento politico che avrebbe poi costruito a suo modo, diciamo così, i suoi strumenti di indagine e di intervento. Diciamo che se mi devo proprio sforzare dell'unica cosa che lui ci ha esplicitamente insegnato, cioè una specie di, come diceva adesso Michael, una specie di assioma, una specie di criterio universale, di presupposto analitico fondamentale, questa cosa è quella che Tony, in quelle riunioni, un po' scherzosamente chiamava la regola del due. Che cos'è la regola del due? È l'idea che ogni singolo fatto della realtà sociale, ogni fenomeno, per quanto ci sembri piatto, monolitico, unidimensionale, scontato, è sempre doppio, è sempre duplice. Ogni cosa, ogni soggetto è una relazione, un rapporto, diceva Judith, è una relazione antagonistica, è sempre l'espressione di una qualche lotta, per quanto questa lotta ci possa apparire invisibile, latente, poco, molto difficile da vedere. La regola del due, quella che lui chiamava in quegli anni così, è molto importante, me la sono portata dietro e me la porto ancora dietro addosso, adesso, perché è molto importante perché afferma che anche quando noi non lo vediamo l'antagonismo, lo dobbiamo comunque presupporre, presupporre, perché presupporre l'antagonismo è l'unica condizione che abbiamo per conoscere quello che sta effettivamente accadendo, accadendoci. Devo dire quindi che se dovessi condensare in poche parole quello che è stato il mio incontro con Tony, diciamo che Tony ha rappresentato per me la possibilità di credere nuovamente nel mondo, come avrebbe detto Deleuze nel suo famoso passaggio, cioè non di credere a un mondo più giusto, ma di credere proprio a quello che mi stava accadendo, quello che ci stava accadendo collettivamente in quel momento. Assumendo però l'idea, ed è questo veramente il segno, secondo me, indelebile dell'insegnamento di Tony, che per credere a quello che ci accade serve una specie di atto di fede, che consiste proprio nel vedere la possibilità della lotta in tutto quello che succede, in tutto quello che abbiamo davanti. Devo dire che buona parte delle critiche che sono state rivolte in questi anni a Tony, di cui parlava anche Francesco, si fonda secondo me su questo fraintendimento, cioè quello di scambiare questa regola del 2 per ottimismo facile, quando invece in realtà è semplicemente una condizione per conoscere e per agire. Addirittura c'è stato chi lo ha accusato di spontaneismo, devo dire che tra le accuse fatte a Tony, quella dello spontaneismo mi sembra sempre quella più divertente, nel senso che non dico chi l'ha conosciuto per una vita, ma anche perché l'ha conosciuto per mezza giornata sa perfettamente quanto Tony fosse non solo appassionato, ma direi ossessionato dall'organizzazione politica, quindi questa mi sembra un'accusa veramente piuttosto ridicola. Però diciamo che per molti anni abbiamo chiamato in chiesta l'applicazione militante e pratica di questa regola, di questo metodo. Ovviamente possiamo chiamarla in molti modi differenti e soprattutto questa regola è una regola che possiamo applicare a tutti i fenomeni, ai fenomeni più disparati. In questi giorni sono andato a rivedermi questi passaggi, questi momenti un pochino iniziali, non credo soltanto per una questione di affetto personale, ma anche perché credo che siamo collocati in una congiuntura storica dove prevalgono rappresentazioni totalizzanti del potere, rappresentazioni totalizzanti del capitale, visioni etnofobiche. Credo anche che l'immaginario catastrofista sia in realtà questo, cioè sia la traduzione di questa impossibilità, di questa impotenza, di vedere la duplicità dei processi storici, dei macro processi storici. Diciamo che forse prima di estremizzando chiamavo questo atto di fede, ma possiamo anche chiamarlo più laicamente ipotesi politica. L'altro giorno mi sono andato a rivedere una intervista molto bella che Tony ha rilasciato proprio nell'ultimo periodo dell'esilio perigino. È un'intervista che spero potremmo proiettare, almeno in qualche suo estratto, il 27 gennaio a Roma, nel momento del ricordo. A un certo punto Tony dice che quando ci sentiamo con le spalle al muro, quando tutto intorno a noi sembra crollare e ogni speranza fallire, quando ci sentiamo soli, bisogna fermarsi e formulare un'ipotesi politica. Ora, questo genere di ipotesi politiche per Tony non erano mai ipotesi meramente intellettualistiche, meramente analitiche o teoriche, sono sempre ipotesi che si devono verificare sperimentalmente, nella pratica dei militanti e delle militanti. aggiungeva subito dopo in questa intervista che per lui i militanti sono persone che possono conoscere lo sfruttamento perché lo vivono fino in fondo, ma sono anche, aggiungeva una cosa che mi è sempre piaciuta molto, come quei sindacalisti americani che all'inizio del Novecento prendevano un treno, senza chiedersi troppo dove era destinato questo treno, e scendevano in ogni stazione per formare un collettivo, un collettivo di lotta. Ecco, penso a oggi, a quello che dobbiamo fare noi che rimaniamo, sia proprio quello, come dire, di provare a formulare nuove ipotesi politiche, ma di continuare a farlo salendo su questi treni, continuando a salire sui treni, a scendere, a formare nuovi collettivi politici. Questo credo che sia, come dire, la linea che in qualche modo possiamo, la penna, come diceva Gianni, che possiamo in qualche modo raccogliere. Grazie.